E' stata approvata all'unanimità ieri sera in Consiglio Comunale, con 16 voti favorevoli, l'istituzione della Commissione per la Realizzazione della Tangenziale di Goito. Sarà composta da sette membri, tre della maggioranza, Pietro Chiaventi, Sindaco e Presidente, Paolo Boccola, Vice Sindaco e Cimolino Gaia. Un membro della minoranza, Giulia Brutti, un tecnico, l'ingegner Ugo Bernini, un membro nominato dalla provincia di Mantova, Mario Cancellieri, un membro del Comitato Goito Tangenziale, Fiorenzo Piceni. Ma quali saranno i compiti della Commissione? Questa Commissione avrà uno scopo consultivo, avrà lo scopo di condividere il lavoro che i comuni di Goito e provincia stanno portando avanti con Regione Lombardia per realizzazione di questa tangenziale. Quindi saranno diversi gli incontri che tenderemo a fare tra di noi in Commissione. Andremo a incontrare le associazioni di categoria per capire le esigenze, per capire le istanze che ci possono essere rispetto allo sviluppo del tracciato. Questa Commissione avrà anche lo scopo di vigilare, tra virgolette, sui tempi di realizzazione della tangenziale. Avrà sicuramente uno scopo informativo nei confronti della cittadinanza del Comune di Goito per tenere informata su quelle che sono le varie fasi di realizzazione della tangenziale. Quindi ci siamo, si entra davvero nel vivo della progettazione dell'opera che rappresenta la soluzione dell'annoso problema del traffico del Comune di Goito. Siamo arrivati nel momento caldo, abbiamo firmato il protocollo a fine 2021, il 2022 è servito quasi esclusivamente per lo studio di fattibilità, sono stati fatti i rilievi sulle varie aree, e si sono ipotizzate delle situazioni che andremo a condividere con la Commissione. Si sta entrando nel vivo, dobbiamo lavorare a testa bassa per vedere di raggiungere l'obiettivo di realizzare la nostra tangenziale nel più breve tempo possibile. Ieri sera l'istituzione, ma quali saranno i prossimi step? Ce ne sarà subito uno il lunedì entrante, siamo in Regione Lombardia con la provincia di Mantua, il Presidente della provincia sarà con noi per vedere, di valutare quelle che sono le prime ipotesi sullo studio di fattibilità. Poi subito dopo ci sarà la convocazione della Commissione Neocostituita per portare a conoscenza la Commissione della riunione di lunedì. Si conta di approvare lo studio di fattibilità entro la primavera barra estate del 2023, poi andare a proseguire con lo studio definitivo. Insomma, si dovrebbe arrivare con l'inizio nei lavori un cronoprogramma che abbiamo stilato con Regione Cal, che è la società incaricata della progettazione e provincia di Mantua, posa dalla prima pietra tangenziale, secondo semestre 2025. Grazie a tutti.